Ufficialmente era un pensionato ex dipendente del Consorzio Salernitano per i trasporti pubblici, ma secondo gli uomini della Direzione Investigativa Antimafia di Salerno, in realtà la sua vera attività era quella di usuraio. Le indagini condotte dalla DIA coordinate dalla Procura della Repubblica di Salerno hanno infatti permesso di scoprire che l'uomo aveva prestato nel 2008 ad una donna, una commerciante di carni, circa 30.000 euro, pretendendone la restituzione con interessi mensili tra il 7 e il 10%, fino ad incassare la somma totale di 87.000 euro. L'operazione ha riguardato il territorio di Cava dei Tirreni, dove la Direzione Investigativa Antimafia ha fermato un altro presunto usuraio che aveva costretto una vittima a vendere ad un prezzo inferiore al valore commerciale un appartamento per onorare un debito contratto per una fornita. Dalle indagini svolte dagli uomini della DIA diretti dal tenente colonnello Francesco Saponaro è emerso che il risparmio imposto dall'usuraio che aveva ottenuto alla cifra di 145.000 euro un appartamento del valore di 277.000 euro era stato nettamente superiore al credito vantato, tanto da costituire una vera e propria provvista di denaro ad interessi usurari. La Direzione Investigativa Antimafia di Salerno ha anche sequestrato su ordine della magistratura un appartamento del valore complessivo di 360.000 euro. Con l'accusa di usura le due persone sono state arrestate.